Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati a nuovo vlog. E niente, ieri sono stata accanto, ci sono stati dei problemi e tutto, però tutto ok. Poi a basket, per chi se lo stesse chiedendo, qua c'è un bel lividazzo che mi comparirà per esattamente due giorni, che sono caduta di nuovo. Sì, mi sono anche sbocciata a ginocchio qua, non fate commenti. Vabbè, pazienza, tanto lo farete sempre. E allora, a parte quello, sì, tutto chiaro, io ieri non l'ho registrato perché è stata una giornata veramente tosta e quindi non mi andava di registrare, ma lo faccio adesso. Vi ricordo che se volete iscrivervi al mio canale, cliccate il bottone qui sotto, iscriviti e se volete condividere con amici, familiari il mio canale, siete super bravi, anzi, mi fate un favore. e niente, allora, io adesso vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un buonissimo blog, in cui praticamente, anzi, il blog di oggi vi mostrerò una cosa incredibile, ve lo giuro. Ciao!